Voglio dire come ultima cosa che Millie Carlucci è comunque sempre molto carina perché poi è lei che parla per ultima, nel mio caso ha detto cosa significa il tuo pseudonimo? Moon La, e ho spiegato appunto la luna in La, Moon La che praticamente è un invito a ricordarci che siamo in un universo veramente molto grande noi siamo piccolini ok, da Moon La un saluto, un abbraccio, un augurio di tanta felicità e godetevi la vita, godiamoci la vita ciao Moon La